Carissime amiche, carissimi amici di Rossini TV, bentornati, bentornati al nostro appuntamento del lunedì sera con Check Up Obiettivo Salute. È una trasmissione che sta riscuotendo davvero un bel successo perché? Perché i medici che intervistiamo qui presso la struttura di Physio Radial Medical Center di Vismara sono davvero molto, molto chiari nelle loro spiegazioni e nel dare a tutti grandi e utilissimi consigli su come affrontare le principali patologie di tutti i giorni. Oggi incontreremo il dottor Massimo Morri. Il dottor Massimo Morri è un dermatologo e ci parlerà di una malattia molto fastidiosa che in realtà magari noi colleghiamo la stagionalità ma così non è. Non è legata ad allergie particolari della primavera ma è davvero una malattia che si presenta in tantissime sue manifestazioni e si chiama orticaria. Grazie a tutti. Dottor Massimo Morri bentornato su Rossini TV. Grazie, grazie per l'invito. L'abbiamo già incontrato l'anno scorso nella prima serie di Check Up Obiettivo Salute. Parleremo con lui, visto che la sua specialità è la dermatologia, collabora in questo ambito con Physio Radial Medical Center. Parleremo di una patologia che non è prettamente stagionale, sapete siamo in zona allergie in questa stagione primaverile. Parleremo, dottore, dell'orticaria. Sì, allora, l'orticaria è una malattia infiammatoria della pelle che si manifesta con una caratteristica triade sintomatologica che comprende l'edema, cioè il rigonfiamento del derma superficiale, della parte superficiale della pelle dovuto ad un aumento della permeabilità vascolare, eritema, che è l'arrossamento che è dovuto ad un vasodilatazione e il prurito. Tutto questo avviene perché si verifica l'attivazione di un particolare tipo di cellula che si chiama mastocita, che libera dei particolari fattori, fattori dell'infiammazione, dei quali è più conosciuta l'istamina, ma ce ne sono anche molti altri. Si tratta di una condizione che è piuttosto frequente. È stato valutato che circa il 20% della popolazione ha esperimenti nel corso della propria vita un attacco di orticaria, quindi è una cosa che effettivamente può riguardare ognuno di noi. La lesione fondamentale, quella che ci permette di fare diagnosi di orticaria è il ponfo. Tutti abbiamo avuto esperienza di quello che succede alla pelle quando ci punge una zanzara oppure tocchiamo una foglia di ortica. Si sviluppa questa rilevatezza, questa piccola rilevatezza sulla cute che può anche, diciamo così, formare delle più ampie placche ed è caratteristicamente monomorfa, cioè ha un po' presente le stesse caratteristiche in tutte le lesioni, è fugace e questa è una caratteristica che è tipica dell'orticaria, è condivisa da poche altre malattie della pelle, cioè dura da pochi minuti a qualche ora ma poi si risolve senza lasciare alcun esito. E poi viene definita anche migrante, perché che cosa succede? Che le lesioni che erano presenti in una sede cutanea spariscono da quella sede, altre ne compaiono in una nuova sede, questo dà l'illusione della migrazione e poi come avevamo detto è una lesione pruriginosa. Sì, pruriginosa non a caso perché lei ha citato il ponfo, ha citato anche l'istamina, questa sostanza appunto che è in realtà la responsabile di questa sensazione di fastidio, ma chiaramente l'ha già accennato, tutto ciò viene scatenato da qualche causa. Esatto, se entriamo nel campo delle cause dell'orticaria purtroppo l'argomento è molto controverso e complesso, diciamo che per sgombrare il campo da un equivoco in cui molte persone cadono, che nella maggior parte dei casi l'orticaria non è una malattia allergica, ma questa liberazione dell'istamina e degli altri mediatori avviene attraverso meccanismi non allergici. E anche la causa è sempre piuttosto difficile da identificare. Diciamo che possiamo avere delle buone speranze di trovarla nel caso delle orticarie acute, che sono quelle che durano per definizione meno di sei settimane. In questo caso, grazie all'anamnesi, cioè al colloquio con il paziente, noi possiamo cercare di identificare un cibo, un farmaco, una malattia virale che sono le cause più frequenti che possono scatenare l'orticaria. Tutti sappiamo che i cibi possono essere in gioco, specialmente i crostacei, il cioccolato fondente, alcuni formaggi, specie quelli fermentati, la frutta secca, alcuni tipi di verdura. Però non sono solamente i cibi, anche i farmaci possono essere in gioco nell'orticaria, soprattutto gli antibiotici, ma anche gli antidolorifici, farmaci che tutti noi abbiamo utilizzato e utilizziamo nella vita per trattare una sintomatologia dolorosa, in primis l'aspirina, che è uno di quelli che più frequentemente dà attacchi di orticaria, anche se oggi è molto meno usata che un tempo, ma anche anestetici locali, mezzi di contrasto iodati per gli esami radiologici. Praticamente tutti i farmaci possono scatenare l'orticaria. L'orticaria può essere però anche un epifenomeno, cioè un fenomeno di accompagnamento di alcune malattie virali che possono essere anche molto lievi. L'orticaria non è una malattia virale di per sé, non è ovviamente neanche una malattia contagiosa, però può accompagnare alcune malattie virali. In questo caso normalmente il suo decorso è abbastanza breve, si autorisolve. C'è poi un altro gruppo a cui voglio accennare brevemente, in cui la causa può essere identificata, sono le cosiddette orticarie inducibili, in cui c'è uno stimolo fisico, questo non è molto conosciuto, però in alcuni casi può essere in gioco e può essere anche provato. Per esempio lo sfregamento della pelle può indurre la comparsa di una striscia rilevata che si chiama dermografismo, oppure la pressione della cintura che stringe in vita, oppure il nostro peso sulla pianta dei piedi, può scatenare un attacco di orticaria. Il freddo, anche il caldo dell'esercizio fisico, molto raramente anche l'acqua, l'orticaria acquagenica, anche il sole, nell'ancor più rara orticaria dovuta ai raggi ultravioletti. Quindi ci possono essere queste forme particolari che è bene conoscere. È curioso pensare questo, che lei ha citato anche la possibilità che la causa venga dall'utilizzo di medicinali con effetti collaterali legati al loro utilizzo, poi magari quindi dovremmo prendere altri medicinali per curare i sintomi provocati da altri medicinali. Quindi ovviamente c'è una cura farmacologica per l'orticaria, ma credo non solo, dottore. Sì, diciamo che purtroppo dobbiamo rinunciare all'ambizione di guarire l'orticaria, perché proprio per i motivi che ho detto, soprattutto nell'orticaria cronica, è molto difficile identificare una causa e quindi di conseguenza non possiamo curare l'orticaria come cureremmo una polmonite con gli antibiotici. Il nostro obiettivo deve essere quello di mantenere il paziente libero da sintomi o quasi libero da sintomi in modo da consentirgli una qualità di vita ottimale, perché l'orticaria può essere anche molto pesante sulla vita delle persone, in quanto disturbi il riposo notturno e quindi poi di conseguenza anche la concentrazione durante il giorno, può sfociare addirittura in forme depressive, quindi è importante avere delle armi e noi in effetti le abbiamo. Il farmaco, prima di tutto consiglierei di evitare i fattori scatenanti, soprattutto l'utilizzo dei farmaci antinfiammatori che frequentemente possono slatentizzare un attacco. Poi bisogna utilizzare i farmaci che abbiamo a disposizione, in primis l'antistaminico che è il farmaco cardine, non i cortisonici come molti pensano, i cortisonici possono essere utili per un breve periodo in forme particolarmente aggressive, ma il farmaco di controllo dell'orticaria è l'antistaminico che si utilizza inizialmente a dosaggi standard di una compressa al giorno e poi se questo non è sufficiente si può anche aumentare la dose fino a 3-4 volte addirittura alla dose standard, che è un dosaggio off-label in realtà, cioè al di fuori dell'indicazione della scheda tecnica, però validato da linee guida europee che ne hanno dimostrato attraverso la valutazione di molti studi che sono stati fatti, l'efficacia e anche l'innoquità. Quindi si può salire, certo che quando si prendono molti antistaminici anche gli effetti collaterali aumentano, in particolare la sedazione e la sonnolenza che sono meno evidenti negli antistaminici nuovi che usiamo ora, però sono comunque sempre presenti, quindi raramente si sale sopra le due compresse al giorno. Però se questo non basta, esiste anche per l'orticaria un nuovo farmaco al pari di quelli che sono stati scoperti e utilizzati nella psoriasi e nella dermatite atopica per esempio, un farmaco biologico che si chiama omalizumab, un particolare anticorpo monoclonale diretto contro le immunoglobuline E, che sono degli anticorpi particolari che giocano un ruolo nell'infiammazione dell'orticaria. Questo farmaco purtroppo, dico purtroppo perché magari potrebbe, diciamo così, essere utilizzato da una platea più ampia di pazienti, ma in questa fase ancora ha una prescrivibilità ospedaliera, quindi ci sono dei particolari requisiti che bisogna avere, però è un farmaco che può garantire nella maggior parte dei pazienti un controllo della malattia a lungo termine, quindi un'ottima qualità di vita. Poi se non basta questo, esiste in realtà anche un'altra categoria di farmaci, gli immunosoppressori, in particolare la ciclosporina, che possono essere utilizzate come terzo step, ma siccome però gli effetti collaterali in questo caso sono piuttosto importanti, diciamo che si possono usare solo per brevi periodi. Un'ultimissima domanda, dottor Morri, lei l'ha accennato, ci può essere una componente psicosomatica? Allora, la componente psicosomatica ci può essere perché il corpo è intimamente legato alla psiche, quindi sicuramente c'è, e anche considerato che l'orticaria cronica spontanea, cioè quella che dura più di sei settimane, nella quale è difficile identificare una causa, è probabilmente in gran parte di origine autoimmune, cioè non è imputabile ad una causa specifica, ma una disregolazione del sistema immunitario che poi è alla base di tante malattie, non solo dermatologiche, e proprio in questo si pensa che chiaramente ci possa essere un aspetto psicosomatico della questione, anche se non è ovviamente l'unica problematica. Certo, grazie dottore, è stato davvero molto chiaro e anche molto interessante perché capire come affrontare meglio un problema che apparentemente potrebbe sembrare banale solo per il nome che porta, ma in realtà banale non è, è davvero molto utile e la ringraziamo per davvero. Grazie a voi, grazie per l'invito. Grazie a tutti per averci seguito e noi ci vedremo lunedì prossimo. Grazie a tutti.